Il Dottor Gregory House È fichissimo, ehi, avrò un colloquio con House Guardate, mi avrò un colloquio con House Vuoi stare, zitto, sono talento Sono troppo forte Sì, la richiamo io, ok? Davvero, amico, la richiamo io Mi hanno chiamato Si sbaglia? È per un'emergenza E io le dico di no Ha ricevuto una chiamata Però non da noi Hai visto la lunga notte di Entebbe? Sì, alla fine gli ostaggi furono liberati, dico bene? Gli ugandesi furono leali con i terroristi Non consegnarono gli ostaggi agli israeliani Devo dire che sono ammirato Dalla geniale tattica dei rapitori Che cos'è il fuego dell'amor? E perché ne hai dieci episodi? È una... È una telenovela Sto imparando lo spagnolo Puoi dirle adios? Stai cancellando i miei video House, quella è l'ultima stagione Al diavolo, in un tratto con i terroristi Li stano e li costringo a uscire allo scoperto Sai cosa fanno i terroristi quando ti rifiuti di trattare? Terrorizzano Porta la mia chitarra